L'acqua è oggi il nuovo petrolio, l'oro liquido per il cui sfruttamento nascono conflitti, la cui assenza genera carestie e morti, come sta avvenendo in Nigeria, Sud Sudan, Somalia e Yemen, paesi devastati da tremendi conflitti e al centro di una delle più gravi crisi alimentari degli ultimi decenni. Oltre 900 milioni di persone nel mondo non hanno accesso a fonte sicure di acqua potabile. Nei paesi più ricchi il consumo pro capita è di oltre 420 litri contro un fabbisogno medio di circa 40. Nei paesi più poveri, secondo i dati del World Water Council, questo è solo di 10 litri. Numeri che sono stati alla base a Montecatini per la celebrazione della giornata mondiale dell'acqua. L'iniziativa è stata della locale Club Unesco, cercando di puntare all'attenzione, oltre al trema di quest'anno, ovvero quello delle acque reflue, in chiave locale, guardando all'acqua termale del passato e di oggi. Come città delle acque, come pensate questo bene debba essere utilizzato? Rispetto. Rispetto in tutte le sue forme, rispetto, veramente rispetto. Perché oggi, avete visto, partiamo con l'UNESCO, che è l'Organizzazione per le Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, e che fu fondata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Bene, non abbiamo capito nulla, perché questa era la strada che andava seguita, ma mi pare che nel mondo purtroppo, compreso quello che è successo poco tempo fa a Londra, poche ore fa a Londra, non si pensi a questo. Accanto a questo, usiamo anche l'acqua usata in maniera troppo anche politica, è tirata per la giacchetta, ma 2 miliardi e 400 mila abitanti, cittadini del mondo, l'acqua non ce l'hanno, o perlomeno non sono capaci di usarla per lavarsi. Detto, sono numeri, quindi non è che numeri si possa inventare. Tuteliamo soprattutto l'aspetto paesaggistico, giustamente architettonico, dei nostri beni, ma la domanda di oggi provocatoria è questa, e se improvvisamente le ascoe scomparissero oppure ci fosse un inquinamento batteriologico, come è accaduto per esempio nella città di Bat un po' di anni fa, che cosa accadrebbe di noi se la portata delle acque improvvisamente diminuisse? Allora ho deciso di parlare delle nostre acque, un po' delle loro peculiarità, ma anche se poi esiste un rischio idrico, che so già che non esiste, lo dico perché, però ho voluto lanciare un po' un messaggio in questo senso per differenziarci anche dalla giornata di oggi, che ricordo come World Water Day riguarderebbe le acque reflue. Cosa possiamo fare per tutelare e fare in modo che il patrimonio idrico, il patrimonio di acqua, possa durare più lungo possibile, non essendo una risorsa inesauribile? Ma fa fatta una riflessione molto importante, soprattutto nel mondo delle produzioni alimentari, perché per esempio i consumi che sono legati all'industria, con la produzione per esempio della carne, sono infinitamente maggiori rispetto a quelli utilizzabili e necessari per l'agricoltura. Una riflessione va fatta perché qui ci sono continenti interi dove la gente muore di fame e dove l'accesso all'acqua diventerà nei prossimi secoli probabilmente anche causa di guerre. Un evento che si inserisce nel percorso portato avanti da otto anni per fare di Montecatini, insieme ad altri importanti centri europei, uno dei luoghi patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. A che punto siamo nel percorso? Dopo otto anni di lavoro, importante, fatto sul territorio ma anche con gli altri vostri partner a livello europeo? Allora, io ho anche un po' paura a dirlo, però ovvia scaramanzia, evidente scaramanzia. Adesso siamo veramente nella fase finale. Stiamo già parlando, anche oggi abbiamo avuto una riunione con alcune persone di Firenze per pensare addirittura a gestire il patrimonio, per cui se si parla già di gestione vuol dire che siamo a buon punto. Io penso tra un anno di questi tempi che possa esserci qualche buona notizia. In generale dal 21 gennaio del 2018 in poi ogni giorno può essere buono. Io spero entro la fine di questo mandato perché dopo aver profuso tanto impegno mi piacerebbe poter tagliare il nastro, però chiunque lo tagli è una cosa che alla città rimarrà per sempre, per cui è solo un piccolo dettaglio, un po' di orgoglio.